Allora, quello che adesso facciamo come presentazione è un'introduzione all'epigenetica. Quando nel 2001 hanno lanciato il concetto di epigenetica, tutto ciò stava adatto al mondo medico-scientifico, ha creato proprio una vera e propria rivoluzione. Nel 2001 è uscito su Time quella in prima pagina, il DNA non è il tuo destino, e tutti si chiedevano cosa fosse, cosa significasse questa comunicazione. In realtà poi si è visto che è proprio l'epigenetica che è il software della vita. Allora ecco perché noi poi chiamiamo la rivoluzione epigenetica per la prevenzione, perché se non si acquisisce la consapevolezza che tutto ciò che è sì lo stile di vita, ma l'epigenetica anche come modulazione di tutti quegli aspetti che regolano la nostra vita nei primi mille giorni soprattutto, e probabilmente come sappiamo anche molto prima, per una trasmissione generazionale, probabilmente non tiriamo mai la quadra di tutto quello che accade nella nostra vita e soprattutto quando si parla di salute. Allora, l'unire le forze, ecco, vi ringrazio di essere qua perché unire le forze fa la differenza, e tutto quello che possiamo fare è contribuire, mai come oggi che siamo tutti confinati le nostre case, sappiamo quanto sia importante questo, contribuire al servizio di qualcosa di più grande di noi, e cosa c'è di più grande che la nostra salute? Dico sempre che le bare non hanno tasche, e che la vita è urgente. Noi possiamo solamente iniziare a dare qualche visione di come potrebbero funzionare le cose. Se la vita è urgente, il DNA non è il tuo destino, allora cos'è che sta contribuendo, cos'è che sta condizionando la nostra salute, la nostra vita, a parte il virus, dove non voglio assolutamente entrare perché è una cosa medica, e quindi mi atterrò solamente alla parte tecnica. Magari poi ne parlerà il dottor Allegrini. Allora, questo è proprio la pagina del Time del 2001. Il DNA non è il tuo destino. Qui proprio dicono, attenzione, che tutte le nostre scelte, tutto quello che noi facciamo, può influire sulle future generazioni. Allora, tutti noi sappiamo che l'epigenetica descrive la riprogrammazione delle nostre cellule senza modificare il DNA. Ma quanto noi siamo consapevoli, per esempio, delle varie costituzioni, come vedremo poi con il professor Allegrini, con il dottor Allegrini, quanto noi siamo consapevoli di quanto un reale rischio congenito dovuto a una disfunzione mitocondriale, DNA mitocondriale a linea materna potrebbe condizionare la salute delle persone? Quali sono i fattori che contribuiscono a modificare questi aspetti? A cominciare, poi vedremo, dalla carenza di ossigeno, la carenza di nutrienti, sappiamo quanto siano importanti i minerali, però non sempre ne teniamo conto, perché siamo sempre abituati a guardare dal buco della serratura, ma non apriamo mai la porta. Probabilmente se incominciamo a aprire le porte di questo mondo, a cominciare dai minerali, dalle vitamine, dagli amminoacidi, possiamo sicuramente arrivare anche a un'opportunità di migliorare la qualità della nostra vita. Allora, se è vero che gli studi, come vedete il professor Morgante, già nell'Università di Udine, ci ha dimostrato la memoria, cos'è, nei geni, genetica e epigenetica, no, è l'ambiente, lo stress e l'eredità che fa la differenza. E questo sempre più, se andate sui siti che sono menzionati sotto, ci rendiamo conto di quanto questa sia ormai una realtà. Basta pensare ai convegni, le conferenze, i seminari del professor Burgio, che è un pediatra, come sapete è uno dei più grandi ricercatori al mondo, a livello internazionale, esperto, che studia queste cose da sempre, ci dice attenzione, l'ambiente agisce sui nostri, sulla nostra salute. Quindi, e questo ce lo conferma l'AIRS, vedete, nella comparsa dei tumori conta anche l'epigenetica. Per piacere silenziate il microfono se potete. Le mutazioni sono trasmissibili, pensate che l'Istituto Nazionale dei Tumori ci dice che sono trasmissibili fino alla terza generazione e questo già potrebbe darci delle indicazioni sui primi mille giorni, quanto siano importanti. Eppure molti smettono di fumare, soprattutto una donna smette di fumare, a volte si è a vizio del fumo solo quando scopre di essere in stato interessante. Ma anche l'uomo è responsabile, il professore Luigi Montano ce lo insegna. Il liquido semilale maschile, sempre più contaminato da sostanze chimiche, tossiche, metalli pesanti, eccetera, può influire sulla salute a livello fetale. E anche nel momento del concepimento. Sono studi interessanti già pubblicati su questo. Quindi quando noi andiamo a parlare di informare per prevenire, dovremmo farlo veramente nelle scuole, io dico negli asili, dovremmo andare da tutte le parti a parlare di prevenzione. E certamente questa dovrebbe essere in mano a tutti noi, alle famiglie. Quando l'epigenetica sta sopra la genetica, quindi programma la nostra salute, sappiamo quali sono i fattori, inoltre che li ripeto, però tutti questi fattori, dall'area che respiriamo all'ambiente in cui viviamo, il movimento che facciamo, condizionano sì la nostra salute in un organismo che probabilmente è già con un piede che di partenza, un principio probabilmente in alcuni casi di un'infiammazione silente che è molto trascurato. E parlo di disfunzione mitocondriale, parlo del fatto che non si consuma in maniera ottimale l'ossigeno a livello mitocondriale e del DNA mitocondriale, parlo del fatto che molti ancora oggi non parlano più di costituzione congenita dalla nascita, eccetera, eccetera. Comunque tutte queste cose poi fanno sì che in un ambiente malsano, e attenzione perché quando parlo di ambiente malsano, oggi che siamo confinati in casa, l'ambiente dove si vive, dove si lavora, spesso gli studi soprattutto stanno da sempre, io mi occupo di questo dal 1999, ho studiato molto l'inquinamento degli ambienti dove si vive e dove si lavora, è dalle 3 alle 5 volte più inquinato che all'esterno. Basti pensare solo al fatto che c'è una carenza di ionizzazione dell'aria, degli ioni negativi sono fondamentali per la nostra salute, la nostra respirazione, le nostre cellule. Basta pensare che nell'ambiente dove viviamo c'è comunque ambienti chiusi, spesso aria condizionata, non si aprono le finestre in maniera adeguata, vengono usate sostanze per detersivi disinfettanti, eccetera, eccetera, che comunque rimangono, seccano e poi arrivano nell'aria, diventa particolato. Quando parliamo di particolato aerodisperso, attenzione, non è solo il PM10, ma sono le PM1, 0,1, è questo che entra a livello embrionale, condiziona a livello fetale, è questo che passa la barriera. Inoltre, i campi elettromagnetici, sempre più sottovalutati, adesso c'è una guerra tra si fa male, no, non fa male, io dico sempre che noi siamo energia, le cellule producono energia, le cellule e la nostra salute dipende da questo potenziale di membrana e quindi tutto ciò che interferisce con le nostre potenziali membrana, che poi alla fine sono volte, tensione, sono millivolte, sicuramente può dare dei problemi. Quindi ormai gli studi, vi consiglio questo libro che si chiama Wireless, il libro del professor Fiorenzo Marinelli del CNR, che cita oltre 300 studi scientifici indipendenti sull'azione dei ripetitori cellulari, wifi e 5G sulla nostra salute ed è un libro molto interessante. Veramente dovrebbe essere l'ABC per tante persone che ancora mettono il dubbio il fatto che non faccia male l'inquinamento elettromagnetico. Consiglio sempre di spengere wifi prima di andare a dormire, consiglio di prendere il cellulare e metterlo fuori dalla stanza. Non c'è abbastanza consapevolezza del danno dal cellulare. Noi in casa siamo in una gabbia, quindi attenzione, soprattutto nei bambini. Un altro aspetto fondamentale, bambini, dice la professoressa Lucangeli, non dovrebbero usare, la professoressa si occupa del neurosviluppo infantile, dice i bambini non dovrebbero usare il cellulare fino ai 15 anni. e quindi pensate come siamo messi noi in Italia e nel mondo. Quindi poi i pensieri, le emozioni che proviamo, molti di voi si occupano di questo e sappiamo quanto siano importanti. faccio un piccolo, apro e chiudo una parentesi. Quando dicono, beh, le paure ti abbassano le difese immunitarie, sì, nello stesso momento, e quindi attenzione che prendi il virus, attenzione perché io dico, i nonni non sanno che il bambino che li abbraccia e li bacia ha il virus da trasmettere, sono lì felici di abbracciare il suo nipote. Quindi non hanno questa paura perché sono inconsapevoli a 80-85 anni. Quindi anche quella cosa che si dice un po', no, bisogna un po' pensarci. Poi la carenza di ossigeno è la fonte di vita, ci si pensa solo quando adesso ne abbiamo bisogno con i respiratori. Pensiamoci prima. Allora, tutto questo è sotto a un inquinamento sempre più sconosciuto da un certo punto di vista, ma anche sempre più in aumento. Anche se ora confinati in casa sappiamo che l'inquinamento si è stato notevolmente abbassato nelle grandi città, ma i cibi sono quelli. I cibi che stiamo mangiando sono quelli che sono stati condizionati e l'acqua che beviamo lo stesso da anni e anni di intossicazione. Allora, se è vero che noi dobbiamo mangiare per produrre idrogeno, respirare per avere l'ossigeno, da lì è la nostra chiave per la salute. Noi dobbiamo ottimizzare attraverso il ciclo di Krebs, come lo sappiamo, e attraverso l'apporto di ossigeno quanto è importante, quanto è importante questo, e per ottimizzare l'energia ATP a livello mitocondriale. Ora, cosa mangiamo, cosa respiriamo, l'abbiamo già detto, e quindi fare prevenzione per preoccuparci dell'adeguato apporto di ossigeno e idrogeno è indispensabile per la vita. Possiamo parlare di tutto, ma se non parliamo di mitocondri, di disfunzione mitocondriale, del DNA mitocondriale e della microcircolazione, noi non arriveremo mai al dunque, secondo il mio parere. l'essere umano sappiamo che ha 25.000 geni, il chicco di riso ne ha 50.000, la differenza lo facciamo con le proteine. Quindi, quando parliamo solo di DNA, non è una cosa corretta. Quindi, tutto è epigenetica. Ancora una volta, Burgio dice, tutto è epigenetica. E allora, ognuno ha la sua verità, lo sappiamo, possiamo consigliare alle persone, come fate voi giornalmente, di cambiare stile di vita, probabilmente ci riusciamo, provate a fargli cambiare casa oggi, oppure fargli cambiare lavoro oggi. Siamo in una situazione, per carità. Quindi, queste cose non si cambiano. Possiamo, quindi, dobbiamo lavorare a limitare i danni, essere più consapevoli. È inutile che continuiamo a dire alle persone che possono fumare all'esterno. Anche lì, il fumo passivo fa male, anche all'esterno. Quindi, fumo passivo, il fumo in macchina. Io vedo ancora gente che fuma in macchina, senza problemi. Assurdo. Allora, questa è epigenetica. L'obesità è anche una programmazione epigenetica, oltre che lo stile di vita errata. Ma soprattutto, gli adipociti, a livello cellulare, vengono programmati, già nella pancia della mamma, per il suo stile di vita, e anche, soprattutto, per l'inquinamento. Le malattie, se non aumento, lo sapete, vado veloce. L'epigenetica oggi è un fattore chiave anche nell'invecchiamento, quindi nella medicina estetica è fondamentale. Tutto dovuto anche a un discorso di telomerasi, l'invecchiamento dovuto alla lunghezza dei telomeri, ma sappiamo anche che pochi hanno a che fare con la possibilità di controllare l'omocisteina, le carenze di vitamine, di minerali, di amminoacidi. Quindi c'è un pochettino da creare cultura e fare formazione, perché è fondamentale sia la nutraceutica che la medicina mitocondriale, senza dimenticare la biofisica, perché noi produciamo energia e quindi siamo un sistema bioelettrico, fondamentale capire che se ci passa energia c'è un campo magnetico e se c'è un campo magnetico noi siamo biofisica pura, che può essere letta. Come? Basta pensare all'elettrocardiogramma, all'encefalogramma, alla risonanza magnetica, non vado avanti altro. Quindi usiamo delle sistemi per fare diagnosi con la biofisica, ma ci dimentichiamo poi che potrebbe essere anche un'importante possibilità di fare prevenzione. Allora se prevenire è meglio che curare, vi risparmio le mortalità, perché oggi dovremmo aggiungere qualcos'altro, come sapete, ma pensate un po' solamente quanti 10.000 morti polmonite all'anno qui si parla. Quindi c'è tanto, tanto di più da parlare, insomma. Però noi ci preoccupiamo del morbillo. Queste sono fonti ufficiali, come vedete, sono fonti ufficiali, queste fonti ufficiali sono dell'Associazione Oncologica Medica dei Reiminatori Sud Superiore di Sanità. Allora dobbiamo tutelare la vita, come si può tutelare la vita? Con la consapevolezza che tutto ciò che facciamo condiziona a livello di zavorra corporea, ma a livello fetale, la vita dei bambini. Quindi noi dobbiamo lavorare nei primi mille giorni, salute dei padri, delle madri, prima del concepimento. E possiamo farlo se abbiamo dei sistemi giusti, perché se no arriviamo sempre troppo tardi. Quindi cellule sane si moltiplicano in maniera sana e danno al mondo bambini sani e si differenziano in maniera sana. Quindi questa è la cosa importante da portare avanti per la medicina preventiva, perché per fare diagnosi di malattie e cure ne abbiamo di sistemi. Noi dobbiamo soprattutto fare prevenzione. Questo documento del 2018 lo dice chiaramente, gli effetti dell'inquiramento a livello fetale condizionano a livello feto, neonatale, a livello epigenetico la nascita delle future generazioni. Cosa vogliamo fare? Questo è il Senato della Repubblica. E qui già se lo spiega molto bene. 500.000 morti premature in Europa e l'Italia al primo posto. Ci sarà un perché? Ci sarà, sovranimente, tutto questo legato all'ambiente, anche all'ambiente. Poi ci sono tutte altre cose. Basta pensare a quello che è successo a Priolo, 2.500 bambini nati malformati, perché questi disgraziati hanno scaricato tutto a mare per 50 anni senza controllo e ancora oggi ne paghiamo le conseguenze. ma se ne parla pochissimo. Ma quante altre zone abbiamo? Vi ricordo abbiamo 200 zone in Italia da bonificare, 96.000 zone con impatto ambientale con amianto, 6.000 morti l'anno per amianto, eccetera, eccetera. E tutto il resto? Questo è un libro che vi consiglio, scaricatevelo gratis, Ambiente e salute, inquinamento e interferenze sul genoma umano e rischi per la salute. Questo è un libro di Burgio che potete scaricare tranquillamente dove si parla di tutte quelle cose che vi sto dicendo. Vabbè, cibo spazzatura lo sapete, è inutile che ci ritorniamo, ma oggi come oggi che vedo dare due o tre Coca-Cola a un bambino di 5, 6 anni, 7 anni o 10 anni è assurdo. 460.000 morti in Europa per inquinamento. Perché? Perché l'inquinamento si prende il controllo del DNA e aumentano le malattie. C'è niente da fare. Tutto è epigenetica. Vogliamo parlare dei metalli pesanti, di quanto tutto ciò che compriamo è pubblicità e l'ambiente in cui viviamo comunque è malsano. L'esposizione materna ai pesticidi, basta pensare qui il criptochitismo del pene a livello inferiore di testosterone. Pensate quante queste bambine sono esposte ai pesticidi oppure prendono queste sostanze al latte materno e quindi poi le troviamo nella frutta, nella verdura. Le banane 38 pesticidi, la frutta 80 diversi pesticidi e comunque continuiamo a fare finta di nulla. Poi gli interferenti endocrini, i modulatori epigenetici, cose che sapete benissimo ma che oggi devono essere sempre più portate a tutti. Non rimanere nelle stanze dei convegni e delle conferenze. Dobbiamo andare a fare prevenzione nelle case, nelle scuole. E poi i campi elettromagnetici, una vera e propria pandemia. Non possiamo continuare a dire tieni, ti regalo il cellulare, guardate cosa facciamo a 5 anni e poi nell'adulto. pensate i danni che facciamo ai primi ai bambini a cui diamo il cellulare come babysitter o addormentarli con la musichetta o la fiaba. Ritorniamo a leggere dei libri ai bambini, penso che sia la cosa più fondamentale, ma invece che dargli dei cellulari. Sono dannosissimi. Già la professoressa di Alward diceva attenzione nel 2012 rischio autismo e poi noi dormiamo così e viviamo così. Dobbiamo stare attenti e oggi sempre di più siamo confinati nelle case dove c'è un rischio ambientale dei campi elettromagnetici enorme, enorme. Dobbiamo stare attenti. Perché? Perché i campi elettromagnetico sul nostro organismo, l'acqua del corpo inverte la polarità e quindi ci mette in condizione di stress continuo. Perché siamo acqua, l'acqua a contatto con i campi elettromagnetici come vedete non è che rimane indifferente. Queste sono le linee guida dell'European 2016 per la prevenzione e in questo caso metteva attenzione che i campi elettromagnetici creano sempre più sensibilità chimica non solo e elettromagnetica. Eletrosensibili in aumento. E questo è quello che noi facciamo. Vedete sopra i virus, i batteri. Questo documento lo spiega bene. Questo è pubblicato. Quindi è una pubblicazione dell'Isle dei medici per l'ambiente europeo dove i virus, batteri, traumi, funghi, pesticidi, inquinanti, metalli, virus, cibi, eccetera condizionano dal punto di vista di stress nitrosative, nitrosativo e ossidativo e noi siamo sempre continuamente sottoposti a questo stress. Noi vedrete stasera presentiamo proprio questo dispositivo che è in grado di mappare tutto quello che vedete sopra da un punto di vista preventivo e predittivo e potrebbe essere una cosa molto interessante da usare come miglioramento dell'anamnesi e perché perché l'ambiente agisce sui geni. Allora dobbiamo incominciare a diventare dei saggi ed ecco rafforzare il sistema immunitario occuparci delle nostre cellule perché le malattie iniziano a livello cellulare dove vivono le nostre cellule nella matrice però quando parli di matrice pensi le persone ti guardano con due occhi così come se dice ma questo di cosa parla? La matrice è che sta cellulare mesenchima tessuto connettivo solo ultimamente hanno parlato di che hanno scoperto l'organo quando sappiamo che nella medicina naturale se ne parla da 20-30 anni comunque la lipidomica delle cellule il glicocalice a livello cellulare quindi importantissimo e poi tutto quello che accade sul microbiota che voi siete dei maestri quindi che viene scusate attenzione è un ritorno di cuffia non sento niente e quindi anche proprio anche a livello materno quanto questo microbiota sia importantissimo e i parti naturali non se ne può più di vedere parti su appuntamento perché non si ha tempo oppure perché chissà per quali interessi e quindi tutto il discorso microbiota non solo dell'intestino ma dobbiamo fare un discorso a 360 gradi dalla bocca alla pelle ai piedi eccetera eccetera noi abbiamo con il nostro sistema la possibilità di mappare gli stress a livello intestinale e dare un report vi ricordo che la disfunzione mitocondriale condiziona anche il microbiota questo è uno studio interessante quindi dobbiamo partire anche da questo e qui si dice chiaramente che le mutazioni del DNA mitocondriale ereditate per via materna influenzano sia il microbiota intestinale sia le malattie a esso correlate ecco l'importanza di quello che dicevo all'inizio di mettere a posto sempre di più i microbiota allora andando velocemente avanti l'uomo ha l'età dei suoi mitocondri ce lo spiegano in tutte le salse e tutti i ricercatori ma se ne parla veramente poco scusate c'è una telefonia dimmi Matteo Giorgio scusa di silenziare i microfoni però si adesso li li direttamente perché c'è troppo casino ragazzi aspetta che vado su qua pausa dove vado dove vado dove vado a silenziarli se stiamo tutti zitti un attimo poi vi silenzio tutti finisco la presentazione così parliamo dell'altra poi allora a livello di funzione mitocondriale vi ricordo che la fondazione di medicina mitocondriale ha assolutamente detto attenzione che tutto parte da lì e lo sappiamo perché perché già questa associazione che è mitocon che ormai è nata da tantissimi anni ci parla di quanto sia indispensabile il mitocondrio per il futuro di tutti i nostri bambini e non solo e ancora la fondazione di medicina mitocondriale ci dice che le malattie partono tutte della disfunzione mitocondriale allora quanto è importante ricaricare le nostre batterie lo sappiamo quanto sia importante occuparci dei mitocondri l'abbiamo detto ma attenzione le malattie vengono trasmesse soprattutto a livello materno quindi la disfunzione linea materna le costituzioni servivano una volta per quello come sta tua mamma come stava tua nonna e tutte le domande dell'anammesi importanti che stiamo dimenticando e anche a livello sugli spermatozoi importantissimo oggi c'è un'infertilità in incremento in aumento importante attenzione e dipende dalla disfunzione mitocondriale se una mela marcisce ve ne accorgete se se ne accorge una cellula se accade una cellula no quindi è importantissimo fare una prevenzione preprimaria sui mitocondri e quanto sia importante intervenire e lo sapete lo fate sempre perché sopra prevenzione da farmaci chimici in poi è cura allora dice ma io lo faccio attraverso l'alimentazione sapete voi che andare al supermercato comprare un'insalata che magari fatta chissà dove non ha tutti i nutrienti soprattutto dopo un po' perde i suoi nutrienti quindi è chiaro che in alcuni casi bisogna integrare ma cosa integrare io parlo per quello di cui mi occupo da sempre che l'integrazione è migliore bisogna iniziare da un'integrazione di ossigeno perché se andiamo in carenza di ossigeno c'è un'infiammazione silente e c'è si può avere un'iperossia ischemia di riperfusione pensate in questo momento quante ce ne sarebbe bisogno di ossigeno a livello cellulare mitocondriale eppure è la cenerentola di nutrizionisti Guiton lo studiano tutti però poi se ne dimenticano anche Warburg lo sanno tutti però se ne dimenticano siamo dovuti arrivare alla modificazione epigenetica di studi fatti per 5 anni 21 paesi nel mondo per dimostrare che senza ossigeno c'è un problema anche di funzionamento di alcune terapie come la radio e la chemio quindi dobbiamo normalizzare questo apporto di ossigeno ce lo diceva anche Candiolo nel 2003 attenzione senza ossigeno si genera metastasi e poi ancora un anteriore studio che ha dimostrato che senza ossigeno si compromette si riduce l'azione terapeutica per esempio in oncologia nel 2019 a ottobre sapete tutti premio Nobel della fisiologia l'ha andato proprio a questi medici che hanno scoperto i sensori dell'ossigeno ma non basta perché ancora oggi se tu vai a parlare di carenza di ossigeno stress ossidativo in alcuni campi non ti ascoltano eppure la fisiologia e la fisiopatologia partono tutto da una corretta ossigenazione a livello cellulare sono tutti abituati a fare queste terapie giusto in questo momento se ne vuole tantissimo quando sei in fin di vita lo vediamo l'ozono potrebbe essere una buonissima opportunità tutta iperossia però come sapete l'iperossia produce stress ossidativo va controllata noi proponiamo da sempre self food che come sapete è un modulatore fisiologico di ossigeno si occupa lavora sull'acqua e quindi fa un'azione antiossidante si ricombina con l'idrogeno e forma acqua quindi o ossigena o fa un'azione antiossidante o depura l'organismo gli studi sono infiniti non c'è tempo per presentarveli perché voglio solo fare un'introduzione queste sono cellule prima e queste cellule dopo vedete come si attiva quindi ha una capacità antiossidante 30 volte più elevata del plasma umano vi ricordo che la migliore integrazione deve essere biodisponibile assimilabile e deve arrivare come vedete in questo modo perché è meglio preferire spray o sublinguali che capsule e pillole tutti gli studi abbiamo fatto studi sulle patologie neurogenerative sulla fibromialgia questo è l'ultimo studio preclinico a livello sull'associazione tra chemio studi pubblicati li trovate su pammed questo è un libro che trovate anche su con pdf scaricabile da edra quindi senza senza problemi e poi l'epigenetica noi possiamo creare un 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 report epigenetico di in maniera specifica dei fattori che ogni persona ha bisogno perché ogni persona è diversa sia la dieta è diversa l'ambiente è diverso la sua storia è diversa e come facciamo a sapere noi sappiamo che un individuo lo possiamo mappare con la sua impronta digitale non è uguale a un'altra la stessa cosa sono le sue cellule e la funzionalità delle sue cellule se noi possiamo captare questi segnali e sappiamo quanto sia importante un biomarker come il capello utilizzato anche dai carabinieri per capire determinate cose come le sostanze stupefacenti oppure l'intossicità delle sostanze dei luoghi di lavoro oppure per capire se una persona è intossicata da metalli pesanti se noi riusciamo a leggere da un punto di vista biofisico possiamo veramente fare la differenza prendiamo 4-5 bulbi li mettiamo che contengono tutte le informazioni necessarie il bulbo non il cappello perché una cosa è il capello e una cosa è il bulbo il bulbo è vivo se noi riusciamo a leggerlo entro 1-2-3 minuti abbiamo le informazioni preziose vive è come fare un test del sangue ma misurare la pressione scusate non come è come misurare la pressione è come fare la glicemia l'avete immediata se voi riuscite a fare questo test avete una situazione una fotografia chiara di questa situazione lo mettete su S-Drive che è un dispositivo ormai certificato con tantissime certificazioni a punto di vista internazionale e questo dispositivo vi permette di leggere tutti questi fattori il sistema antiossidante le sfide ambientali il sistema gastroresistenza quindi il sistema gastrointestinale e le varie carenze nutrizionali non è un test di intolleranze o allergie si tengo perché quella è un'altra cosa un altro mondo noi non ce ne occupiamo ci occupiamo di carenze nutrizionali e impatto ambientale è importante lo viene viene utilizzato anche dai centri MIR di medicina integrata per la riproduzione ormai abbiamo oltre 160 centri in Italia e vado in chiusura era solo un'introduzione quindi non mi fermo su tutti gli argomenti il nostro benessere dipende da noi sì cosa possiamo fare io penso che sia veramente fondamentale unire le forze incominciare a fare vera prevenzione capire cosa sta danneggiando la persona a un punto di vista ambientale e nutrizionale noi siamo abituati a prescrivere magari Omega 3 perché sappiamo che gli studi hanno dimostrato che funzionano bene la vitamina D sì ma sappiamo veramente quale sono le reali carenze nutrizionali di quella persona sappiamo quant'è la sua capacità antiossidante l'acquenzima Q10 tutte le vitamine del gruppo B gli aminoacidi gli acidi grassi essenziali non c'è mica l'Omega 3 c'è anche l'Omega 6 è il DHA o EPA eccetera 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 con questo sistema con S-Drive siamo in grado di migliorare la nostra anamnesi non facciamo certo diagnosi a diagnosi sappiamo già abbiamo già il sistema ma possiamo in solo 12 minuti avere una risposta 12 minuti non prendo il campione lo mando via ritorna dopo dei giorni e io penso di dare qualcosa al paziente pensando che lo stesso di un mese fa no lui cambia allora noi dobbiamo seguire in maniera ottimale il nostro paziente questo potrebbe essere un'ottima possibilità scordiamoci il murino bianco perché non esiste più vi do un messaggio dell'amore per la vita perché è un unico regalo che non riceveremo più due volte e oggi come oggi sappiamo quanto questo sia prezioso vi faccio i miei migliori auguri a voi alle vostre famiglie veramente a tutta la nostra Italia perché ne abbiamo bisogno la vita è davvero semplice eppure insistiamo complicandola penso che di complicazioni ne abbiamo parecchie in questi giorni vi lascio con questo messaggio di speranza perché la vita senza amore non ha senso e oggi ancora di più ne abbiamo bisogno buona vita a tutti e grazie di cuore grazie a tutti grazie a tutti